Siamo a Sanremo, anche musica, abbiamo qui un professionista Gianni Testa. Gianni come stai? Bene, in questa fantastica location non possiamo che stare bene. Ho aperto domenica con la festa di Raditalia e continuiamo con il Meeting del Mare. Quindi un evento straordinario che tra l'altro ha radici nella mia terra, la Calabria. Ci vuoi dire ai nostri ascoltatori una cosa positiva e una cosa negativa di questo festival? Allora, la cosa negativa che mi viene più immediatamente davanti agli occhi è il fatto che sia stato troppo blindata tutta la città. Quindi questo distacco tra la gente e l'arte che non esiste perché Sanremo è una terra proprio in cui l'arte si fonde con la gente. È una grande festa secondo me e doveva restare tale. In questo modo l'abbiamo fatto diventare un evento mediatico che poco ha a che fare con la Kermess di Grazie dei Fiori. E una cosa positiva? La cosa positiva è che siamo qua e ci siamo ritrovati e che facciamo una bellissima serata. No, la cosa positiva è che comunque ci sono stati anche degli artisti molto belli, molto bravi, tra cui Amadeo Minghi che ho accompagnato ieri sera insieme a Rita Pavone, tra cui i due giovani di Aria Sanremo che si sono battuti fedelmente, tra cui Matteo Faustini che in questo momento è terzo su iTunes, quindi un giovane che abbiamo scelto noi e che è andato fino in fondo. Peccato ce l'hanno buttato fuori, però va bene così. Aria Sanremo c'è e resterà per sempre. L'arte arriva anche dal basso, cioè da ragazzi che non hanno la possibilità di avere un'etichetta discografica e si presentano in modo autonomo ad Aria Sanremo invece di andare tramite la RAI con l'etichetta discografica. Bene, io ti ringrazio. Viva la musica, viva il Festival di Sanremo, viva Sanremo ON 2020 e ti auguro una buonasera. Cosa mi vuoi dire? Che quando fai così tu mi devo preoccupare, no? E viva la vita e la felicità. Sempre. Ciao, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.